Visso contro Norcia nella battaglia del pian perduto, uno dei luoghi più belli tra Marche e Odumbria, è accaduto 500 anni fa dal racconto in versi dei pastori poeti. Per celebrare l'anniversario il sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera, Mauro Falcucci, ha organizzato il primo forum sulla montagna, con una rievocazione storica in costume e un concerto a cura dell'associazione Arena Sferisterio. Un luogo simbolo come la Madonna della Conna che tutti conoscono, che ricordiamo tutti che è la pieve più alta delle Marche, e poi in questo panorama trovare un aggettivo per definirlo è una magnificenza della natura. Abbiamo voluto organizzarlo in questa sede, dove il luogo che avvenne, perché il significato di oggi è che da dopo la battaglia queste due comunità sono riuscite a fare la pace, intorno al 1580 e da lì si è cominciata a festeggiare la pace. In questo momento delicato volesse anche un segnale di pace, in questo drammatico momento che sta avviando l'Europa. È un simbolo, è un'attenzione particolare, ma abbiamo voluto anche allargarlo per fare un forum. Il primo forum sulla montagna, come osservatorio, il forum è come una chiacchierata continua e aperta, quindi con più appuntamenti per essere attenti e dare delle sollecitazioni, suggerimenti alla nuova legge sulla montagna, che purtroppo con lo scegliamento del Parlamento dovrà essere un compito del nuovo Parlamento. Quindi vogliamo trattare questi argomenti come salvare la montagna italiana, non soltanto la nostra, perché non è questo il concetto. Nel RR ci stiamo particolarmente occupando di fare in modo che questa opportunità unica e irripertibile non vada ad incidere negativamente su quella che è la grande e vera e unica ricchezza di questo territorio, il patrimonio ambientale. Quindi stiamo condividendo con gli uffici tecnici dei vari comuni le migliori scelte, le migliori progettualità, in modo da integrare adeguatamente le legittime aspirazioni del lancio sociale ed economico con quello che è il rispetto del principio fondante dello stesso PNRR, cioè quello di non arriccare danno all'ambiente.